Allora eccoci, buongiorno, ci troviamo a Borzoli e oggi abbiamo in visione un appartamento di 5 vani e mezzo e adesso vado a mostrarvi. Dall'ingresso, con porta blindata, guadagniamo questo ingressino con il suo disimpegno dalla quale accediamo a una zona giorno che è composta da una cucina, una cucina abitabile. La faccio è quella di Borzoli. Confinanti abbiamo tre stanze sostanzialmente, questa è la prima, sono tutte stanze confinanti di pianta regolare. Adesso poi andiamo a vedere anche gli affacci. Questa è la prima, questa è la seconda. Infine la terza. La terza è quella più grande, quella che potrebbe essere considerata eventualmente la sala, dalla quale accediamo a un balcone. Il balcone è tutto su via Borzoli, comprese le altre stanze e affaccia sostanzialmente sul vivaio. Laggiù in fondo oggi non lo vediamo, c'è il mare. Le guadagniamo poi l'interno. Vediamo da ultimo il bagno, come avete visto l'appartamento è totalmente da ristrutturare. Il palazzo invece è in buone condizioni. Ecco qui il bagno con il box doccia. In buone condizioni è un quarto piano, un quarto piano senza ascensore. E qui direi che la nostra visita si può concludere aspettandovi da fondo casa San Fruttuoso via Giovanni Torto e Torto Rosso che vedo di Feliscana Pietra. Grazie.